Con le belle giornate e l'aumento delle temperature, moltissimi turisti sono tornati a visitare la caratteristica riserva del Parco Marino Protetto Torre del Cerrano. Con i visitatori sono però arrivate tante macchine parcheggiate un po' ovunque a causa della carenza di spazi, in sosta anche lungo la statale nonostante il divieto. Una condizione gravata dalla chiusura dei parcheggi privati laterali che costituiscono un'importante valvola di sfogo alla problematica. Una problematica che va affrontata in qualche modo e va risolta. Adesso proprio con le belle giornate Torre del Cerrano ritorna ad essere uno dei luoghi più frequentati della nostra bellissima regione Abruzzo. Il tratto di spiaggia libera di fronte a Torre del Cerrano che è la zona B dell'area marina protetta, quindi una delle sole 29 aree marina protette che insistono sul territorio nazionale, durante queste belle giornate viene frequentato naturalmente dai visitatori di tutto il territorio che vogliono passare una giornata in spiaggia in un ambiente bellissimo dal punto di vista naturale. Nelle aree esterne, quindi fuori dal tratto di competenza dell'area marina protetta, ci sono due terreni privati. Sappiamo che è in corso attualmente un dialogo con il comune di Vineto, che è l'ente che deve risolvere questa problematica. Sappiamo che il dialogo sta andando avanti, quindi presumibilmente nei prossimi settimane dovrebbe esserci in qualche modo una soluzione. Attualmente si può raggiungere Torre del Cerrano in maniera abbastanza agevole, sia lungo le due piste ciclabili che collegano le città di Vineto e Silvi, che sono anche bellissime da percorrere, e anche con una semplice passeggiata attraverso le Vinete. Ma questo anche nell'ottica della promozione di un turismo che sia lento, sostenibile e rispettoso dell'area. Va comunque naturalmente risolto il problema della gestione dei parcheggi, dove attualmente si possono lasciare le macchine soltanto nelle zone di stallo consentite, quindi vanno risolte sicuramente i parcheggi, anche per consentire alle persone con difficoltà motoria di poter accedere in uno dei tratti di spiaggia più belli della nostra regione. Tutti abbiamo lo stesso diritto di poter frequentare quell'area. Naturalmente dovrà essere affrontato tenendo conto che proprio in quell'area insiste una zona B di un parco marino, quindi un'area, una riserva a rilevanza nazionale, che insieme ai tre parchi nazionali che abbiamo va a costituire quella rete di riserve nazionali in Abruzzo.